Una giornata di solidarietà e impegno civile, quella vissuta presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il Rotaract Vallo della Lucania Cilento, presieduto da Giuseppe Lombardi in collaborazione con l'ASLE di Salerno e l'Associazione Donatori di Sangue del Cilento, ha organizzato un'importante iniziativa di donazione di sangue denominata Ogni Goccia Conta. In un momento in cui la carenza di sangue rappresenta una preoccupazione crescente, soprattutto nei mesi estivi, il Rotaract ha deciso di rispondere concretamente all'appello del centro trasfusionale di Vallo, mobilitando i propri membri e sensibilizzando la comunità locale sull'importanza di questo gesto salvavita. Da parte sua, il dottore Giovanni Darena, responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale San Luca, esprime il suo sentito ringraziamento a nome di tutti gli operatori del centro. Ringrazio il Rotaract di Vallo per aver raccolto l'appello a donare in un momento di emergenza. Diversi ragazzi del Rotary, insieme ad altri donatori, sono venuti ad offrire il loro contributo. Siamo ancora in una fase complicata, ma grazie alla generosità dei donatori siamo riusciti a fronteggiare le difficoltà. L'iniziativa, oltre ad essere un gesto di grande altruismo, ha rappresentato un'occasione per molti di effettuare la loro prima donazione. Non abbiamo fatto ciò per autopromuoverci, ma per sensibilizzare, ha sottolineato Giuseppe Lombardi. Grazie alla visibilità dell'evento siamo riusciti a coinvolgere diverse persone, alcune delle quali hanno effettuato la loro prima donazione. Speriamo che questo nostro gesto riesca ad incoraggiarne altri nei prossimi giorni. La donazione, come ricordato dai promotori, è un'azione semplice, ma di fondamentale importanza, considerato che ogni anno oltre 600.000 italiani necessitano di una trasfusione. Ogni donazione conta e può fare la differenza. Invitiamo chiunque possa donare sangue a raggiungere l'ospedale San Luca tutti i giorni feriali, dalle 8.30 alle 12.00. Un plauso va anche agli operatori del centro trasfusionale, il cui impegno e professionalità sono stati riconosciuti e apprezzati da tutti i partecipanti. Grazie al loro lavoro e alla generosità dei donatori è stato possibile affrontare una situazione emergenziale con successo, garantendo così la disponibilità di sangue a chi ne ha bisogno. Un'iniziativa che dimostra come la collaborazione tra associazioni, istituzioni sanitari e cittadini possa fare la differenza, trasformando un gesto di solidarietà in una risorsa vitale per la comunità.